I mafiosi li prendeva in giro usando un linguaggio irriverente e questo i mafiosi proprio non lo sopportavano. Non lo sopportavano anche perché lui, Giuseppe Impastato, detto Peppino, proveniva da una famiglia mafiosa proprio come loro e la mafia bigliacamente lo ha ucciso. Questa è la storia dell'omicidio di Peppino Impastato. Giuseppe Impastato nasce in Sicilia, a Cinisi, in provincia di Palermo nel 1948. Proprio là dove anni dopo sarà costruito l'aeroporto di Punta Raisa, aeroporto sul quale, secondo Peppino, e non solo secondo Peppino, c'era l'interesse del clan dei mafiosi e per la sua costruzione ci furono violenti e espropri. Il padre Luigi è un noto affiliato alla cosca locale e il cognato Cesare Manzella è uno dei capi di Cosa Nostra della zona. Peppino è della stessa famiglia ma di pasta completamente differente, milita in gruppi extra parlamentari di sinistra e denuncia come e quando può la mafia. Nel 1965 fonda l'idea socialista e si iscrive al PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Partecipa alle iniziative in particolare di lotta continua dove conosce anche Mauro Rostagno, altra vittima di mafia. Si mette al fianco dei contadini vittime degli espropri per la costruzione dell'aeroporto e non manca di lottare anche insieme disoccupati. Poi nel 1976 fonda il gruppo Musica e Cultura e l'anno dopo apre Radio Out, una delle prime radio libere dell'epoca. Lo studio è a Terrasini ed è ricevibile in zona sui 98 e 800 megahertz. Che le persone anziane siano penone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. con un po' di ritardo comunque arriviamo, si arriva Onda Pazza, Onda Pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Out, la trasmissione di fantapolitica di Radio Out. Crea la trasmissione Onda Pazza e dai microfoni di Radio Out denuncia il malaffare mafioso tra Cinisi e Terrasini. Erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò un lenzuolo bianco alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera. Soprattutto però denuncia Gaetano Badalamenti, succeduto al precedente boss Cesare Manzella a capo delle clan. E Cesare Manzella però è proprio lo zio di Peppino. Ma alle 5 della sera in mafiopoli si riuniva la commissione edilizia. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale di mafiopoli. Il programma più seguito dunque è quello del venerdì. Onda Pazza come dicevamo e parla di mafiopoli dove mafiopoli è proprio Cinisi ed intorno. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di mafiopoli. O se tratterite del municipio di mafiopoli. E' riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il grande capo, Tano Seduto, si aggira, si aggira come uno spargliero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Così Cinisi diventa mafiopoli, il corso Umberto I diventa corso Luciano Liggio, Gaetano Badalamenti e Tano Seduto. Il sindaco Gero Di Stefano era Geronimo Stefanini. S'è conclusa la riunione della commissione edilizia di mafiopoli. Il progetto Z11 è stato approvato. I grandi capi delle grandi famiglie ringraziano. Qui Peppino e gli altri ragazzi parlano di un progetto, del progetto Z10, che loro chiamano Z11, e del progetto della costruzione di un palazzo abusivo in odorni mafia. E infine i grandi capi, Geronimo Stefanini e Tano Seduto, e soprattutto a sovrastare tutti, a sovrastare su tutto, 6 miliardi concessi dalla cassa per la mezzanotte. In passato quindi si batteva contro la costruzione del palazzo abusivo di Cinque Piani e del villaggio turistico di Pozzillo, appunto il progetto Z10. Chi sarà il buono? Ma sono tutti buoni! L'approvazione del progetto era avvenuta con la massima cautela e non doveva essere pubblicizzata prima delle elezioni, stando a quanto diceva Peppino, il quale ne era venuto a conoscenza, non si sa attraverso quale canale e aveva sputtanato la cosa sia alla radio sia nel suo ultimo comizio. Ma il cattivo, il cattivo tra loro non esiste, il cattivo è sempre di fuori di loro. Peppino si candidò anche alle elezioni comunali con democrazia proletaria, ma non fece in tempo a conoscere i risultati dell'elezione. Risultò poi essere il candidato con il maggior numero di voti. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta la mafia siciliana ampliò i suoi affari, anche grazie alla compiacenza di qualche politico, in particolare Demo Cristiano, partito che in Sicilia aveva un vasto consenso. A Cinisi dunque c'è Cesare Manzella, capo mafia locale e zio di Peppino. Tra gli affari più redditizi del clan c'è il contrabbando di sigarette e il mercato della droga. Manzella, nonostante sia descritto come persona violenta, è visto però come un bene fattore. È stato espulso da poco dall'America, dove gestiva sale da gioco a Chicago, e adesso se ne va in giro per Cinisi, regalando dolce ai bambini, finanziando un orfanotrofio, diventando addirittura anche presidente dell'azione cattolica di Cinisi. La sua vera attività, però, è quella di mediatore tra i clan locali, quelli palermitani e quelli americani. Un ruolo delicato e pericoloso che durerà fino al 1963, quando salterà in aria sulla sua Giulietta. La morte è da collocare nell'ambito della guerra di mafia tra clan, in quel momento c'era la guerra tra il clan greco e il clan la Barbera. Ed è proprio questa la prima autobomba in assoluto della mafia. Quando Manzella muore, Peppino rimane fortemente scioccato, ha appena 15 anni. Lui era molto legato allo zio e probabilmente proprio questo omicidio fa nascere in lui l'avversione nei confronti della mafia, fino a dire «Questa è la mafia? Se questa è la mafia, allora io la combatterò per il resto della mia vita». E così fu. L'omicidio di Manzella spiana così la strada a un altro capomafia, Gaetano Badalamenti, soprannominato Battaglia, ritenuto il padrone di Cinesi. Attorno alla figura di Badalamenti ruotano altre famiglie mafiose, compresa quella degli impastato. Gli interessi illeciti vanno dalle cave di pietra, all'edilizia, dai mercati, al carburante, gli alberghi e i pozzi d'acqua, ma soprattutto la droga, da e verso gli Stati Uniti tramite l'aeroporto di Punta Raisi di Palermo. Il clan adesso controlla il 90% del traffico di stupefacenti dell'intero introito di Cosa Nostra. E questo fino alla fine degli anni 70, poi si scatenerà la guerra contro i corleonesi. Ma questa è un'altra storia. Peppino Impastato cresce in questo ambiente e la sua guerra dichiarata alla mafia la combatte con la parola e con azioni dimostrative. Ad esempio le mostre itineranti in paese, delle vere e proprie denunce con foto, piantine e nomi degli intrallazzi e intrallazzatori tra politica e mafia, le speculazioni edilizie e gli interessi criminali. Peppino con gli altri attivisti si sposta di strada in strada, con grandi cartelli sostenuti dai ragazzi, per tenerli sollevati da terra per evitare così denunce per occupazioni di suolo pubblico. Ma tutto questo non va bene. Il padre di Peppino, minacciato anche da badalamenti, arriva a cacciarlo di casa in quanto lo considera un traditore. Il padre però sa che la mafia vuole uccidere il figlio, allora vola negli Stati Uniti per cercare una via di mezzo, una via di salvezza, un aiuto per mediare sulla vita del figlio, ma tutto questo non servirà a nulla. Poi nel 1977 Luigi, appunto il papà di Peppino, viene investito da un'auto e muore. Il sospetto è che potrebbe essersi trattato di un attentato, ma ad oggi non ci sono prove concrete a dimostrarlo. Peppino sapeva che il padre era mafioso, ma era pur sempre il padre, e alla funerale rifiuta i saluti dei mafiosi intervenuti e che volevano esprimergli le loro fasulle condoglianze. Poi arriviamo alla notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Tra poche ore l'Italia sarà sconvolta dal ritrovamento a Roma del corpo di Aldomoro, prigioniero delle Brigate Rosse per 55 giorni. Intanto sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani una carica di tritolo esplode sui binari dilaniando il corpo di Peppino impastato. Avvisati della morte, gli amici si precipitano sul posto, ma vengono tenuti a distanza. Che cosa è accaduto? Da subito, le ipotesi su cosa potesse essere accaduto non convincono nessuno. Vengono subito perquisite le abitazioni di parenti e amici e sequestrate libri e riviste di lotta continua. Prende piede la pista che Peppino è un terrorista, intento a compiere un attentato dinamitardo, rimanendo però ucciso erroneamente dall'ordigno che stava posizionando sulle rotaie per far saltare un treno. Si accertò poi che l'esplosivo da cava era lo stesso in uso ai mafiosi di Cinisi. Due chili di tritolo, grosso modo. Dopo le prime ore di indagini, da Roma arriva dunque la notizia del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse. A quel punto le attenzioni mediatiche si rivolgono esclusivamente a Roma. Allora, a indagare seriamente, ci pensano gli amici e militanti di democrazia proletaria, del centro siciliano di documentazione e di lotta continua. Con sdegno, respingono le accuse di terrorismo e indicano nell'ambiente mafioso il luogo dove cercare il mandante e gli esecutori dell'omicidio. Non solo, fanno anche un nome. Un nome pesante, pericoloso. Gaetano Badalamenti. Gli amici proseguono le loro indagini e individuano un casolare nei pressi del luogo dell'omicidio. All'interno c'è una pietra insanguinata e quel sangue è proprio di Peppino. E su un'altra pietra ci sono altre tracce organiche, sempre di impastato. L'ipotesi, che sarà poi più di un'ipotesi, è che Pino sia stato aggredito da alcuni sicari. Trascinato nel casolare, picchiato, colpito alla testa con le pietre, probabilmente ucciso, poi è stato spostato sui binari con l'esplosivo addosso per inscenare il tentativo di attentato dinamitardo. Alcuni giorni dopo il giornale di Sicilia, però, pubblica una lettera di Peppino, di alcuni anni prima, dove manifestava propositi suicidi. Per gli inquirenti, allora, la vicenda è chiara. L'attivista si voleva suicidare compiendo un attentato a un treno. A credere a queste tesi, però, sono solo gli inquirenti. A riaprire le indagini, sarà il giudice Rocco Chinnici, che però sarà ucciso dalla mafia, così il fascicolo passerà al suo successore, Antonino Caponnetto, che è sempre stato considerato l'eroe della lotta alla mafia. Accade così che nel 1984 sarà riconosciuta la matrice mafiosa, attribuita però ad ignoti. L'inchiesta poi subirà un paio di archiviazioni, ma nel 1994 il pentito di mafia Salvatore Palazzolo dichiarerà che l'omicidio è stato deciso da Gaetano Badalamenti e dalla sua vice Vito Palazzolo. Così nel 1996 l'inchiesta sarà aperta contro Gaetano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo, indicati come ideatori e mandanti. Nel tempo sarà istituita anche una commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Giovanni Russo Spena, che stabilirà che le indagini sono state fatte con dolo per depistare. Arriviamo alle condanne nel 2001. Ergastolo per Gaetano Badalamenti e 30 anni per Vito Palazzolo. Mai individuati gli esecutori materiali, Badalamenti poi è morto nel 2004 in carcere negli Stati Uniti. Oltre a denunciare le speculazioni mafiose sul territorio, Peppino Impastato si era interessato anche a un'altra vicenda, la strage di Alcamo Marina. La strage di Alcamo Marina avvenne la notte del 27 gennaio 1976 in una stazione dei Carabinieri, di notte appunto, dove vennero assassinati due Carabinieri. Varie le ipotesi, tra le più accreditate è quella di un delitto di mafia, ma anche terrorismo o un'operazione militare di Gladio. Probabilmente i due militari avevano visto qualcosa che non dovevano vedere e volevano informare chi di dovere. Per questo sarebbero stati uccisi inscenando la forzatura del portone della caserma e i conseguenti omicidi per mano di quattro persone che poi non c'entravano nulla. Peppino denunciò il depistaggio messo in atto dagli investigatori per coprire ambienti vicino o dentro le istituzioni e questo poteva essere un motivo per ucciderlo. Ma da parte di chi? Mafia? Apparati deviati dello Stato? Con la complicità dell'eversione di destra al soldo di strutture anticomuniste? Peppino impastato, eletto, ricordiamo, sarebbe diventato consigliere comunale acquisendo un potere istituzionale e questo non piaceva a Cosa Nostra. E questo è un punto su cui rifletto. Ruolo fondamentale per la ricerca della verità lo ha svolto anche la mamma di Peppino, Felicia, che ha sempre detto di non volere vendetta, ma giustizia. Nonostante avesse sposato un mafioso, non ne condivideva l'appartenenza alla mafia e ha sempre difeso il figlio davanti al padre. Non ha mai perdonato perché, come ha detto, delitti così efferati non possono perdonarsi. I badalamenti non doveva ritornare a Cinesi neppure da morto. Dopo i risultati della Commissione parlamentare antimafia, in cui è scritto chiaramente che carabinieri e magistrati avevano depistato le indagini, ha espresso la sua soddisfazione. Avete risuscitato mio figlio, così mamma Felicia. E sempre mamma Felicia diceva a giovani, tenete alta la testa e la schiena dritta. È morta il 7 dicembre del 2004 nella sua casa di Cinesi. La storia di Peppino Impastato ricorda, tra le altre, quella di Ilaria Alpi o di Mauro Rostagno, che avevano visto e saputo qualcosa di eccessivamente compromettente. La storia di Ilaria Alpi poi la potete trovare in questo canale. Tra poco anche quella di Mauro Rostagno. Insieme all'invito di mamma Felicia, bisogna tenere presente tutta la storia di Peppino Impastato. Una persona onesta, un rivoluzionario con intelligenza e sensibilità sopraffina, che ha avuto il coraggio di combattere faccia a faccia la mafia, con la quale era cresciuto respingendola e denunciandola. Questo è stato Peppino Impastato. Peppino Impastato.